buongiorno sono Mark Costabi ciao buongiorno Mark sono il vittore americano e domani vengo a pagare affitto e sto vedendo che quattro e quattro e quattro e ti do un buon presto sono il capolo voi uno più bello dell'altro guarda ti faccio entrare in casa per pagare un po' ok allora andiamo dentro casa dove teniscono questi quadri nella tua casa ok vediamo che succede io sono un pittore americano lo conosco complimenti vedo che manca qualche quadro in casa sì ma io posso sistemare una casa senza un quadro in bianco e nero fatto di Mark Costabi non è una vera casa prendiamo anche uno in bianco e nero due amanti che sono assolutamente abbordi così intrecciati intrecciati uno dentro l'altro e poi per la stanza di figlio mettiamo questo quando più allegro un giovane che ha molto speranza che va in questa chiazza metafisica di bichirico è un binocchio questo orologio è uno dei orologi più venduti nel mondo nelle più grandi star americane loro hanno questo orologio al polso è un orologio di Mark si chiama U-Boat è famoso ce l'hanno al polso Tom Cruise ah sì Arnold Schwarzenegger e tanti altri ok ma grazie aspetta un pagamento no vai qual'è la cifra 5.000 a cada uno 5.000 a cada uno ma se prendi tutti i 5 non è meno di 5 no se prendi tutti i 5 sono 500 euro cada uno no scusami sei a casa di un napoletano Mark hai dimenticato questo particolare ma lì è una bella lotta eh tutti e due napoletani ah 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 insomma allora invitiamo tutti a vedere My Italy il 18 maggio al cinema con Marco Stabi e Sebastiano bravo